Assistiamo alla prima sciabolatura Aspetta, aspetta Oh, aspetta che mi sto... Aspetta Ari che mi prendo un bicchiere Ari! Esatto, però qui che fa molto più forte No? Ecco, così, in diagonale Ti concentri su qua Pronto soccorso Non muo la mortiglia tutto il resto, eh? Tieni inclinato così Seri, convinta, come se si era una sbella, Alberto, quando sei incazzato Se vuoi, urla perché... Arriviamo al dunque! Provo? Stai già andando? Ci siamo, l'allievo è la prodottrice Vado! Devo beccare qua, eh? Sì, più inclinato, così Inclinato, ok E quando vuoi, vai, ok? Bravissima! Su! Ce l'ho fatta! Bravissima! Grazie! Grazie! Che si mangia il vetro e si taglia tutta Via, che nel senso di non ipotenza via 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 Tappo! Che bello, Kaja! Tappo così, che come prima Può essere più che contenta Perfetto! Anzi, altro bacio che... Via! Via! Dai, ma è bellissima! Perfetto!